L'arco per Giannelli, prova di nuovo l'uno contro uno, Giannelli scarico, buono per Donadio, fa partire la palombella Donadio che scende il bersaglio, perfetta qualità. L'arco per Giannelli, la storia per la presa precedente, insomma un pochino, un strano modo, Steno Azzurro dall'altra parte, sotto palestro il passaggio per il numero 20. Da qua, da qua, da qua, scarico per casa, Steno Azzurro, addio, 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 scarico per Giannelli, si avrà anche più Giannelli, giunta la prima. Ola dio, sacco del paella, la casata, no!